Buongiorno a tutti, so che siete intanti a seguire i canali social dell'Aeronautica Militare. Per me è un'opportunità, un'occasione di condividere con voi un anno entusiasmante e impegnativo dell'Aeronautica Militare. È stato un anno non facile, abbiamo svolto oltre 100 missioni di salvataggio. Oltre 30 sono stati gli interventi dei nostri elicotteri per togliere le difficoltà o supportare il nostro personale. Gli aeroplani della difesa aerea per oltre 40 volte si sono alzati in volo per garantire la sicurezza e la difesa del nostro paese. È quello che facciamo ogni giorno con professionalità, con passione e con il cuore. Ma è stato anche un anno di entusiasmo, di novità, di innovazione e di impegni che ci hanno portato all'avanguardia nel sviluppo delle capacità dell'Aeronautica Militare e dell'Aeronautica in generale. Siamo stati i primi nella Nato con l'F35, nuovo aeroplano di quinta generazione, a svolgere la difesa aerea in un paese lontano da noi, in Islanda. È stata un'attività entusiasmante, dalla quale abbiamo ricevuto apprezzamento da tantissimi paesi. Abbiamo impegnato non soltanto l'F35, ma tutte le nostre capacità in casa e all'estero per contribuire alla sicurezza e al mantenimento della pace. L'abbiamo fatto in sinergia, l'abbiamo fatto con spirito di squadra. L'innovazione di un aeroplano di quinta generazione come l'F35 comporta una capacità di rinnovare, di adeguare tutta la Forza Armata. E la soddisfazione è stata quella di vedere non soltanto la nuova componente F35, ma sostanzialmente tutte le altre componenti della Forza Armata, crescere assieme, fare squadra e dimostrare come sviluppare capacità nuove e capacità innovative. L'innovazione l'abbiamo vista anche in tutta una serie di attività che hanno coinvolto il comando logistico, l'intelligenza artificiale, altre tipologie di attività nuova, moderna, dove la tecnologia dimostra come l'aeronautica sia all'avanguardia anche in questo settore. L'aeronautica è presente dopo 20 anni dall'ultima volta nuovamente in una località veramente lontana e difficile, l'Antartide. Siamo nuovamente in Antartide con i nostri aeroplani, con il nostro personale, siamo in procinto di realizzare, di completare una pista sul permafrost, quindi capacità operative a fianco a quelle logistiche, a supporto dell'Enea e della ricerca. Ma andiamo anche ben oltre i confini che abbiamo qui sulla Terra. Il colonnello Luca Parmitano, pilota, sperimentatore dell'aeronautica militare, è comandante della stazione spaziale. Ci sorvola ripetute volte al giorno, ci segue e ci vede dall'alto. È la dimensione dell'aeronautica militare. È stato un anno quindi entusiasmante, ma non ci fermiamo qua. Il 2020 sarà un altro anno impegnativo, ma altrettanto ricco di eventi, di sfide e di novità. Celebreremo il centenario della nostra patrona, della Madonna di Loreto. Lo faremo con una serie di eventi, di celebrazioni su tutto il territorio nazionale, affinché l'aeronautica sia vicina al territorio, sia vicina alla nostra gente. Celebreremo anche il centenario di un ride importantissimo, un ride Roma-Tokio, fatto nel 1920 da Arturo Ferrarin. È un altro elemento per raccontare la continuità delle nostre tradizioni e della nostra storia. E poi ci sono altri eventi importanti. Celebreremo 20 anni dall'ingresso delle donne nelle forze armate e in aeronautica militare. Celebreremo il sessantesimo anniversario della pattuglia acrobatica e sarà un'altra manifestazione strepitosa. Dunque una serie di eventi importanti, di appuntamenti importanti, in cui saremo felici che seguiate, siate vicini a quello che gli uomini e le donne della Forza Armata fanno ogni giorno. Oggi, come durante le feste natalizie, quasi 4.000 uomini e donne all'aeronautica saranno impegnati al servizio. Saranno forse lontani dalle proprie famiglie e svolgeranno un'attività di tutela, di garanzia, di salvaguardia della nostra sicurezza. Lo faranno in silenzio, come al solito, lo faranno con il cuore e lo faranno con passione. A tutti loro rivolgo il mio grazie, il mio augurio di buon Natale, di felice anno nuovo. A tutti voi che seguite l'Aeronautica, tantissimi auguri di buone feste e cieli azzurri per tutto il 2020.